Un saluto ai videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi ho un grandissimo piacere di avere con noi un amico scrittore che ha pubblicato tanti libri a tema medievale, ma l'ultimo è particolarmente importante. Il titolo è La crociata infame. L'autore è Andrea Monetti, l'editore è Albatros Filo, pubblicato da pochissimo. Sono 626 pagine per soli euro 20 e 50, quindi un prezzo che vale la spesa. Io non rubo altro tempo ad Andrea perché ho voglia di sentire cosa ci racconta di questa crociata infame. A te Andrea. Allora Maurizio, è un piacere enorme essere qui con te. Ci conosciamo da tempo. È un po' che non ci vedevamo, ma ho sempre apprezzato tantissimo l'impegno e la dedizione che metti sulla tua associazione e sul mondo medievale in generale, che è un mondo indubbiamente affascinante. Il romanzo è un romanzo ambientato nella lingua d'oca all'inizio del XIII secolo. Si svolge nei vent'anni della famosa guerra albicese, o meglio, crociata albicese. È un romanzo che ha richiesto anni di ricerca. Sono stato anche nei luoghi più di una volta. È un romanzo dove si fondono tanti personaggi diversi e dove soprattutto il tema di fondo nello scenario della guerra, che è anche il descrivere quella che era la società occitana, una società molto avanzata per quelli che erano gli stereotipi del periodo nell'Europa. Era anche una società di cerniera tra il mondo europeo e il mondo musulmano. Una società con una ampia e importante apertura, anche ad esempio nel mondo femminile. Basta pensare alla cultura cortese, dove non era soltanto una poesia trobadorica e di ricerca diversi, ma la donna, a differenza di tanti altri posti in Europa, nello stesso periodo, aveva acquisito un ruolo centrale. Era una società dove, ovviamente rifacendosi a quelli che sono i canoni del tempo e del periodo, c'era una ampia apertura mentale, libertà di pensiero, se si può usare questo termine in un periodo come quello del XIII secolo. E non è un caso che nelle città occitane, soprattutto nelle città occitane della lingua d'oca, quindi parlo Carcassonne, piuttosto che Narbonne, piuttosto che Tolosa, la fascia dei Pirenei e così via, quindi diciamo tra i Pirenei e Als, se si vuole essere più precisi come zona geografica, si è sviluppata l'eresia per eccellenza del Medioevo, l'eresia catara. Un'eresia che ebbe un'ampia diffusione in Europa, soprattutto e non a caso nelle zone economicamente e culturalmente più sviluppate, perché ritroviamo la stessa eresia catara ad esempio nel Nord Italia, nel milanese, nel bolognese, nel centro Italia Firenze e così via. e queste erano relazioni tra città commerciali, tra uomini di cultura, tra l'artigianato, tra la borghesia che incominciava a acquisire spazio, incominciava a porsi domande e incominciava ad essere protagonista nella storia. Quindi il romanzo vuole cogliere il momento storico della cultura della lingua d'oca, il momento storico di una crociata che è stata indetta contro i catari, che è stato uno sparteacque dal mio punto di vista nella storia europea e spesso volentieri sottovalutato, perlomeno in Italia, in Francia già questo chiaramente anche voi per questioni geografiche che è un tema molto molto sentito, ma è stato questo fenomeno, questo evento, che poi ha scaturito l'inquisizione. Quindi il romanzo vuole andare a cogliere anche, infatti si svolge dal mille, diciamo sostanzialmente dal 1208, al 1236, 1240, vuole andare a cogliere il momento in cui si fa strada l'inquisizione. Alla fine della crociata albicese, quando il Tolosa definitivamente cede le armi, diciamo così, e Ramon VII di Tolosa riconosce il potere di essere un vassallo del re di Francia, Luigi IX, che allora era un ragazzino e a governare c'era sua madre, Bianca di Castiglia, in quel preciso momento storico a Tolosa c'è un concilio nel 1229 in cui tra i vari punti, tra la quarantina di punti del concilio, c'è addirittura il punto in cui la Chiesa vieta di tenere una Bibbia in casa, una Bibbia volgare, perché chiaramente la cosa di cui ha più paura, più timore la Chiesa, sto parlando chiaramente della Chiesa del 1200, era il libero pensiero, la libera interpretazione delle Sacre Scritture. Quindi il romanzo vuole essere un romanzo di storia, un romanzo di avventura, un romanzo di guerra, un romanzo che vuole cogliere certi momenti storici ben precisi, perché dal mio punto di vista, e avevo scritto anche un articolo che poi è presente nel blog di Italia Medievale, se le cose fossero andate diverse, e mi riferisco in particolare alla battaglia di Muret del 1213 in cui si sono scontrati l'aragonese tolosani contro gli invasori, chiamiamoli così, del nord della Francia, capeggiate da Simone Monfort, se le vicende militari fossero state diverse, con ogni probabilità, avremmo avuto forse una storia diversa e non è detto che l'inquisizione, perlomeno come l'abbiamo conosciuta, si sarebbe inserita e innestata nella storia europea. Forse la lingua d'oca avrebbe continuato a mantenere la sua libertà e la sua specificità in Europa. Forse potrebbe essere stato un faro e non a caso tanti poeti trovatori, poi li ritroviamo nell'Italia, nelle corti del nord e centro Italia, li troviamo a Perona, li troviamo a Milano, li troviamo a Massa Carrara e così via. E probabilmente avremmo avuto, e questo l'ho spaccato, secondo me, storico molto importante, avremmo avuto forse un'Europa diversa, perché l'inquisizione e quindi il tribunale delle anime magari ci sarebbe stato comunque, magari era un processo storico inevitabile, ma probabilmente avrebbe avuto un peso e una forma diversa. In tutto questo contesto, dove ovviamente la mia è una scrittura, chi legge, dicono molti che è una scrittura scenografica, ho curato molto quelli che sono gli aspetti, le descrizioni, le sensazioni di un quale spaccato della vita quotidiana di quel periodo e quindi dalla corte medievale piuttosto che alla casa di un villaggio di montagna, piuttosto che di una casa al centro di Tolosa. Vuole fare breccia nella storia proprio per prendere il lettore, lo scopo, secondo me, di un romanzo storico è importantissimo l'ambientazione, quindi ho curato molto anche quella, prendere il lettore e portarla all'interno della storia e quindi farli sentire colori, farli vedere colori, farli sentire sapori, i suoni di una qualsiasi via medievale piuttosto che di una corte medievale e con i suoi stereotopi e non, perché poi il Medioevo, dal mio punto di vista, e credo sicuramente anche dal tuo, era tutt'altro che un'epoca buia, quella dei secoli bui è una, diciamo, è una propaganda che viene dal romanticismo, dall'illuminismo per fare un atto di differenziazione rispetto all'epoca precedente, ma tantissime istituzioni che anche oggi sono vive nella nostra società hanno visto gli albori in quegli anni lì. Viene in mente, ad esempio, l'università, vengono in mente tanti aspetti di diritto e organizzazioni dei comuni, la civiltà comunale, ad esempio, e così via. Quindi, il contesto storico, far capire al lettore le conseguenze di un'azione ben determinata che è stata la crociata albicese, prendere il lettore e spararlo letteralmente in quel periodo per cercare di apprezzare l'ambientazione, una storia dove dalla parte centrale in poi del romanzo si sviluppa anche una sorta di thriller e di caccia all'uomo che non sto a descriverla perché spero che chi ci sta ascoltando poi abbia il piacere di gustarsi la lettura e quindi non vuole essere un mattone, diciamo, un saggio, vuole essere un romanzo in tutti i sensi, ma la base di tutto e la costante di tutto il romanzo, nonostante tutti i vari punti che ho detto, credo che sia l'amore perché alla fine i personaggi principali di questo romanzo sono due, sono un trovatore, Ghilhem, e una da Mijella di Corte Madalene che ha anche delle proprietà e delle abilità di curatrice e questo già nel medioevo una donna che curava e una donna che sapeva prendere le sue decisioni e le sue responsabilità era ovviamente un caso piuttosto raro e spesso volentieri si pensava che dietro ci fosse qualcosa di maligno e il nome Madalena non è casuale perché chiaramente Madalena si chiama Maddalena con tutte le diciamo conseguenze e incastri che ci possono essere con un nome importante come questo che una porta sulle spalle questi personaggi riescono a mantenere vivo l'amore a sopravvivere nel contesto della guerra albicese che è una guerra che è stata molto dura perché ha sconvolto un'intera regione ci sono stati roghi saccheggi vessazioni basta pensare ai roghi di Minerv dove hanno bruciato in un unico in un unico rogo 140 persone e alla vaura addirittura 400 persone quindi per dare un attimo il contesto in cui in cui questa guerra si muoveva famosissima è la vicenda di Bézir nel 1209 la prima città che è stata conquistata dall'esercito diciamo dei signori del nord della Champagne del nord della Francia e anche altri mercenari e bande di saccheggiatori venute un po' da tutta l'Europa Bézir quando fu saccheggiata e letteralmente devastata si parla di dai 7 10.000 morti è famosissima la frase che i crociati posero al legato papale e che domandandogli ma noi in fin dei conti come riusciamo a conoscere a riconoscere un eretico da un cattolico normale e la risposta lapidaria fu uccideteli tutti tanto Dio riconoscere i suoi questo è diciamo vera leggenda ma questo in qualche modo dà il termometro della situazione quindi è stata una guerra di devastazione una guerra di saccheggio con continui rovesciamenti di fronte i tolosani hanno avuto anche una reazione che stavano anche per avere la meglio poi chiaramente non avevano i mezzi per sostenere una campagna militare ed economica con tutte le distruzioni che ci sono state e tutte le vessazioni per vent'anni alla fine hanno ceduto e quindi in questo contesto si sviluppa questa storia costante di amore in cui il messaggio alla fine vuole essere uno molto semplice l'amore sopravvive a tutto quando c'è amore e quando questo amore è vero sincero profondo puro sopravvive a tutto anche alla morte e infatti al di là della credenza che uno può avere sull'aldilà piuttosto che essere ateo non ateo il vero la vera vita dopo la morte è il ricordo delle persone e quindi dell'amore che sono riuscita a dare e dell'amore che sono riuscita a ricevere e quindi questo romanzo dove non ho cercato in alcun modo di calmierare la violenza perché dove c'è la guerra non c'è niente di nobile non c'è niente di glorioso la guerra è guerra la guerra è sangue la guerra è terrore la guerra è orrore la guerra è sopraffazione e quindi le scene che ho descritto sono scene che ricalcano questi sentimenti queste situazioni l'amore però riesce nonostante tutto a germogliare e sopravvivere anche in questo quindi vuole essere un romanzo che ha tante sfaccettature che può piacere a quello che cerca l'avventura può piacere a quello che cerca un contesto storico quindi una struttura anche nozionistica importante sono stato molto attento nei particolari e negli eventi spero conoscendo i lettori storici che non mi trovino gli errori perché una delle cose che faccio quando leggo un romanzo storico chiaramente è l'occhio clinico di cercare a trovare sempre la ricerca dell'errore e quando uno scrive romanzi storici è la cosa la cosa più facile dove uno può incappare e quindi può interessare sia al lettore storico cioè quello dove veramente apprezza molto l'ambientazione apprezza molto il contesto e le note storiche al lettore che gli piace l'avventura perché comunque si parla di guerra si parla di caccia uomo si parla di sesso si parla di amore si parla di tutti quelle sono le sfaccettature della vita della vita di ognuno di noi e a quello che è interessato a storie di amore perché comunque alla fine questo nonostante tutto credo che sia una grande storia di amore il e soprattutto il personaggio di Madeleine e io quando l'ho scritto mi si è come dire moltiplicato nelle nelle pagine intendo dire che penso che a un pubblico femminile possa piacere molto quel personaggio lì perché ci ho speso veramente tantissimo tempo e ci ho veramente ragionato di persona con questa donna con questa fanciulla virtuale perché ho cercato di condensare su questa figura il senso di libertà il senso del conoscere se stessi del prendere del prendere consapevolezza di chi siamo di di andare avanti comunque e tutto questo in poche parole significa di essere donna di essere cosciente di essere donna in un periodo dove la donna chiaramente non era non aveva certo le stesse possibilità ma è lo stesso ruolo dell'uomo basta pensare che in quel periodo c'era chi si poneva la domanda se la donna avesse un animo oppure no quindi ecco questa per me è la figura centrale del romanzo nonostante tante figure che gli girano intorno giullari eretici nobili trovatori veggenti cavalieri ovviamente mercenari dirigenti del volgo piuttosto che mercanti ma lei in qualche modo il romanzo piano piano lei prende forma piano piano lei assume il suo ruolo e piano piano lei sboccia e alla fine del romanzo sarà lei poi la vera protagonista finale e questo è uno dei personaggi io ho scritto negli altri romanzi l'aspetto femminile per me è sempre stato molto importante perché come diceva Grosio Marx gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta intendo dire hanno una sensibilità le donne nettamente superiore e più delicata degli uomini e noi siamo molto più semplici a volte su certi pensieri più razionali più profondi ma la donna riesce ad avere una sensibilità un'empatia che l'uomo non ha e io sono sempre rimasto meravigliato da questa nostra differenza è sempre una cosa che ho molto apprezzato e in questo romanzo ho proprio cercato di come dire rendere la più reale la più femminile possibile Madeleine dove veramente e non parlo di una donna ideale cioè non sto parlando di una donna che è in un manifesto è una donna che è intoccabile che vive chissà in quale pianeta non è la Beatrice di Dante tanto per intendersi o la Francesca di Petrarca è una donna in carne ed ossa ma è una donna che che veramente crea secondo me una serie di domande e una serie di considerazioni anche attuali ecco questo secondo me è la descrizione del romanzo un romanzo che chiaramente ha portato via tante energie perché un romanzo di 626 pagine e di queste 626 pagine ne ho tagliata almeno il 30% quindi probabilmente sarebbe stato 7-800 pagine è un romanzo dove ho cercato in ogni momento di scrivere con la massima un'istante lettuale possibile di essere il più obiettivo possibile di essere il più di cercare di capire anche tutte le parti chiaramente c'è una simpatia personale che va al mondo citano rispetto al mondo che lo conquista lo distrugge non a caso il titolo della crociata infame perché se pensiamo è stata indetta una crociata in terra europea e non nell'Otremar non nelle terre latine e quindi in Palestina è stato un evento veramente che anche molti contemporanei di quel periodo si ponevano la domanda se era ammissibile o non ammissibile una cosa del genere perché non era mai successo c'erano sì stati magari rughi c'erano stati sì atti violenti verso comunità piuttosto che singoli ma una crociata indetta dalla chiesa in una regione d'Europa che chiaramente è stata una crociata essenzialmente di tipo territoriale politico perché nonostante molti abbiano magari partecipato convintamente da questioni religiose poi qui chiaramente si apre si chiude la parentesi sulla giustezza o meno di usare la spada e il fuoco per questioni religiose oggi per fortuna viviamo in un altro mondo ma essenzialmente è stata una crociata di conquista come tutte le guerre di religione poi alla fine sono semplicemente guerre di conquista dove la religione è la cartina di tornasole la foglia di fico lo scuro che si utilizza per fare altre cose e quindi l'ho intitolato la crociata infame perché non c'erano assolutamente presupposti per fare una crociata come questa e per molti e anche contemporanei è stata una crociata infame non solo da parte dei fadit e quindi dai cosiddetti fadit che erano i partigiani diciamo così quelli che combattevano in lingua d'oca per contrapporre con i mezzi pochi mezzi che avevano contrapporsi all'invasore quindi in qualche modo si può fare un parallelismo con una guerra partigiana come conosciamo oggi o con la guerriglia con la guerriglia che abbiamo conosciuto nel 1900 nel XX secolo nel XXI secolo e questo titolo però ho cercato di mitigarlo all'interno delle pagine nonostante la mia simpatia va chiaramente per i fadit per chi ha subito la crociata ma ho cercato di essere il più obiettivo possibile spero di esserci riuscito in fondo al romanzo ci sono delle mie considerazioni e c'è anche una una cronestoria delle eventi una cronologia delle eventi più importanti dove magari possono essere anche di spunto per il lettore per cercare argomenti sviluppare interessi su cose che ripeto in Italia non sono molto conosciute in Francia ovviamente sì come nella cultura anglosassone c'è molta bibliografia sulla sulla crociata albicese su catere e così via in Italia un po' meno però è una tematica secondo me affascinante come quella in generale delle eresie medievali in generale perché chiaramente è un tema che riguarda la presa di coscienza la la scelta eresia non a caso deriva dal greco eresis che vuol dire scegliere scelta quindi persone che nonostante conoscesse le conseguenze decidono di scegliere decidono di fare una scelta altri che sono eretici magari senza saperlo perché fanno delle interpretazioni però alla fine del salmo nel tredicesimo secolo tra la fine dodicesimo e il tredicesimo secolo assistiamo a questo sviluppo delle eresie che poi porteranno all'eresia di Dolcino di Segalelli a fine del tredicesimo secolo inizio del quattordicesimo a Yanas nel quindicesimo secolo e così via ma alla fine l'eresia che per me non ha un concetto negativo proprio perché il termine la radice è scegliere scelta l'eresia alla fine era verrebbe da definire che era un insieme diciamo così di cristiani senza chiesa cioè di cristiani di gente che rimaneva nell'alveo con interpretazioni diverse con scelte diverse rimaneva nell'alveo diciamo della cultura cristiana ma non necessariamente riconoscevano quello che era il nucleo di potere il nucleo di ortodossia della della chiesa cattolica che chiaramente sovrastava e controllava ogni ogni cosa da un punto di vista di come riferimento culturale come riferimento per alcune aree anche politico quindi crociata infame sta per una crociata che è stata una conquista una crociata che ha portato alla se non cancellazione sicuramente alla soppressione di una cultura che era una cultura florida una cultura aperta e anche secondo me infame perché poi alla fine è stato un tradimento ovvero queste terre erano infestate tra virgolette uso questo questo verbo per rifarmi a terminologie medievali quando parlavano della della volpe nella vigna del signore quando si riferivano agli eretici e quindi parlavano di vigne di terreni infestati dall'eresia erano sì infestate ma la popolazione era comunque una popolazione a stragrande maggioranza cattolica era una popolazione che accettava all'interno della propria comunità questi pensieri diversi c'erano in alcune in alcuni villaggi in alcuni paesi della lingua loca ad esempio i perfetti dei catari predicavano nelle chiese piuttosto che nelle piazze ma in maniera aperta la discussione era una discussione del cercare di dimostrare all'altro le proprie ragioni chiaramente era una discussione anche molto accese come era l'epoca di quel periodo lì ma riuscivano comunque a esserci idee e pensieri diversi con la crociata c'è stata l'omologazione del pensiero c'è stata l'omologazione del credo e c'è stato soprattutto l'annientamento di una cultura che era avanzata di una cultura che che parlava della gioia di vivere che parlava dell'amore cortese una cultura dove abbastanza apertamente anche nella poesia trobarica si parlava nonostante si facessero riferimenti poetici abbastanza ermetici ma si parlava comunque apertamente di sesso eccetera eccetera una cultura che accettava all'interno delle proprie corti culture diverse araba ebrea tranquillamente coesistevano non c'erano situazioni di coercizione come in altre come in altre parti di Europa e quindi per questo per me è stata una crociata infame Andrea bisogna comprare questo romanzo bisogna io direi di sì io direi di sì bisogna correre in libreria e ordinare la crociata infame pubblicato da Albatrossil Filo di Andrea Moneti come abbiamo detto in apertura quindi un romanzo di 626 pagine che però costa solo 20 euro e 50 e che parla della crociata albigese che si sviluppa nell'arco di 20 anni e riguarda soprattutto la lingua d'oca e il territorio citano io ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito è un piacere enorme e immenso da parte mia ricordo ai nostri ascoltatori di continuare a seguirci sul sito costantemente aggiornato che è www.italiamedievale.org dove troveranno anche questa video presentazione insieme a tutte le altre e spero che tu adesso non faccia passare un'altra eternità prima di tornare con un nuovo romanzo ne ho due uno è finito che sto su una fase di rilettura con un agente letterario l'altro sono a tre quarti e sono due esperimenti soprattutto l'ultimo che sto finendo l'ho ambientato a Parigi nel 1871 la comune di Parigi i protagonisti sono degli impressionisti pittori e così via e quindi è un contesto come dire sono completamente fuori dalla mia confortable zone però è veramente eccitante bene allora ti ritroveremo prossimamente con le novità e intanto la crociata infame non dimenticatevelo grazie ancora e alla prossima grazie a te Maurizio grazie a te